Tutte le sere dell'anno, nella saletta di Giorgia, d'Emmendamma, c'eravamo noi quattro, l'impresario di Pompefune, Briloste, Fetz e io. A volte c'era anche qualcun altro, ma vento, pioggia, neve o grandine che fosse, noi quattro eravamo sprofondati, ognuno nella sua poltrona particolare. Fetz era un vecchio scozzese ubriacone, ed evidentemente un uomo istruito, con qualche proprietà, dato che viveva da ignavo. Era arrivato ad Ebenham anni prima, ancora giovane, e poiché aveva continuato a vivercine, era diventato cittadino d'adozione. Il suo pastrano di cammello blu era un monumento locale, quanto il campanile della chiesa. Ad Ebenham erano diventati tradizione la sua presenza nel salotto del George, l'assenza dalla chiesa, l'intemperanza e i vizi radicati e disdicevoli. Aveva vaghe opinioni radicali e fugaci infedeltà, che di quando in quando asseriva e rafforzava picchiando sul tavolo un palmo tremulo. Beveva rum, tutte le sere regolarmente, cinque bicchieri, e se ne stava seduto col bicchiere nella mano destra e in uno stato di malinconica saturazione alcolica per la maggior parte della serata. Lo chiamavamo dottore perché pareva avere particolari conoscenze di medicina e a volte, solo per farsi offrire da bere, riduceva una frattura o una lussazione. Ma al di là di questi dettagli vaghi, non sapevamo nulla del suo carattere e dei suoi precedenti. Una scura notte d'inverno. Erano scoccate da un po' le nove quando l'oste si unì a noi. Al George ci fu un malato, un grosso proprietario dei dintorni colpito all'improvviso da apoplessia sulla strada per il Parlamento, e si telegrafò per far accorrere al capezzale del Granduomo il suo ancora più grande dottore di Londra. Era la prima volta che accadeva una cosa del genere ad Ebenham perché la ferrovia era entrata in funzione da poco. Eravamo tutti adeguatamente eccitati. «E' arrivato», disse l'albercatore dopo aver riempito e acceso la pipa. «Chi?», disse io. «Non il dottore?». «In persona», rispose il nostro oste. «Come si chiama?». «Dottor McFerlane», disse l'albercatore. Fetz stava per finire il terzo bicchiere. Era un stupidito. Di tanto in tanto gli ricadeva il capo o fissava perplesso intorno a sé. Ma all'ultima parola sembra svegliarsi e ripetè il nome McFerlane due volte, abbastanza tranquillamente la prima. La seconda con un'emozione improvvisa. «Sì», disse l'oste, «quello è il nome». «Dottor Wolf McFerlane». Fetz tornò sobrio all'istante. Spalancò gli occhi. La voce gli divenne chiara, forte e ferma. La parlata efficace e decisa. La trasformazione stupì tutti, come se un uomo fosse risuscitato dai morti. «Vi chiedo scusa», disse. «Temo di non aver prestato molta attenzione nei vostri discorsi. Chi è questo Wolf McFerlane?» «E ascoltate di nuovo le parole dell'oste?» «Non può essere». «Non può essere», aggiunse. «Eppure vorrei proprio vederlo faccia a faccia». «Lo conoscete, dottore?» domandò sorpreso l'impresario di pompe funebri. «Dio me ne guardi», fu la risposta. «Eppure il nome è abbastanza strano. Sarebbe davvero una coincidenza se ce ne fossero due. Ditemi oste, è vecchio?» «Beh», rispose l'oste, «non è un giovanotto, questo è certo. Ha i capelli bianchi, ma pare più giovane di voi. Però è più vecchio di parecchio. Ma, battendo il palmo sul tavolo, è il rum che mi vedete in faccia. Rum e peccati. Quest'uomo avrà forse la coscienza tranquilla e una buona digestione». «Coscienza? Statemi a sentire. Credete che sia stato un buon, vecchio amorigerato cristiano? Ma no, non io. Non sono mai stato un bacchettone. Lo sarebbe stato Volter nei miei panni, ma il cervello si diede colpetti rapidi sulla testa calva. Il cervello era chiaro e attivo. Eppure ho visto e non ho tratto deduzioni. Se conoscete questo dottore, mi alzardai a rimarcare dopo una pausa alquanto penosa. Mi pare di capire che non condividete la buona opinione dell'oste. Fez non mi diede retta. «Sì», disse con improvvisa decisione. «Devo vederlo faccia a faccia». Ci fu un'altra pausa e poi, piuttosto bruscamente, al primo piano si chiuse una porta e si dirono dei passi sulle scale. «Quello è il dottore», gridò l'oste. «Fate svelto e lo raggiungete». Non c'erano che due passi tra la saletta e la porta della vecchia locanda del George. L'ampia scalinata di quercia finiva quasi nella strada. Tra la soglia e l'ultima curva in discesa c'era spazio per un tappeto turco e nient'altro. Ma ogni sera questo piccolo spazio era brillantemente illuminato, non solo dalla luce delle scale e dalla grande lampada sotto l'insegna, ma anche dal caldo splendore proveniente dal locale del bar. Così brillantemente il George si reclamizzava ai passanti della gelida via. Fetz si diresse con passo fermo e noi, rimasti indietro, osservammo i due uomini incontrarsi, come aveva detto uno di loro, faccia a faccia. Il dottor McFarlane era agile e vigoroso. I capelli bianchi gli mettevano in risalto i tratti energici, anche se scialbi e placidi. Era abbigliato riccamente, del miglior panno nero e della biancheria più fine, con una grossa catena d'oro all'orologio e occhiali e bottoncini dello stesso prezioso materiale. Indossava una cravatta morbida, bianca con puntolini lilla, e teneva sul braccio un comodo cappotto da viaggio di pellizza. Non c'era dubbio che portasse bene i suoi anni con quell'aria di ricchezza e considerazione, e faceva un contrasto sorprendente vedere il nostro ubriacone inveterato, calvo, sudicio, bustoloso, avvolto nel suo vecchio pastrano di cammello, affrontarlo ai piedi delle scale. McFarlane disse a voce piuttosto alta, più come un banditore che come un amico. Il grande dottore si fermò di botto sul quarto scalino, quasi che la familiarità del richiamo avesse sorpreso e in qualche modo scosso la sua dignità. Toddy McFarlane, ripete Fez, il londinese barcollò quasi, fissò per un infinitesimo di secondo l'uomo che gli stava davanti. Si guardò alle spalle con una specie di spavento, poi in un sussurro stupefatto. Fez, disse, voi. Già, disse l'altro, io. Credevate che anch'io fossi morto? Non è così facile liberarci l'uno dell'altro. Zitto, zitto, sclamò il dottore. Zitto, zitto. È così inatteso questo incontro. Vedo che siete solo. Vi ho riconosciuto a stento, da prima lo confesso, ma sono molto felice, molto felice di questa occasione. Per il momento debbo dirvi come state e addio tutto in una volta perché mi attende il calesse e non posso perdere il treno. Ma voi? Vediamo sì. Datemi il vostro indirizzo e riceverete presto mie notizie. Dobbiamo fare qualcosa per voi, Fez. Temo che siate un po' a corto, ma provvederemo per amore del buon tempo antico, come una volta cantavamo a tavola. Denaro. Grida Fez, denaro da voi. I soldi che mi avete dato già sono dove li ho gettati nella pioggia. Parlando, il dottor McFerlane era riuscito a riprendere un po' del suo tono di superiorità e sicurezza, ma l'insolita energia di questo rifiuto lo fece ripiombare nella confusione. Apparve e gli attraversò i tratti quasi venerabili un'espressione orrenda, crudele. Mio caro, disse, sia come volete. La mia ultima intenzione è quella di offendervi. Non voglio forzare nessuno. Vi lascerò al mio indirizzo comunque. Non lo voglio. Non desidero sapere qual è il tetto che vi alberga. Lo interruppe l'altro. Ho udito il vostro nome. Ho temuto che foste voi. Desideravo sapere se dopo tutto c'è un dio. Ora so che non ce n'è alcuno. Andate via. Restò immobile al centro del tappeto tra le scale e la porta e il gran medico di Londra, per fuggire, fu costretto a passare di lato. Fu evidente che aveva esitato al pensiero di una simile umiliazione. Era pallidissimo e dietro i suoi occhiali c'era uno scintillio pericoloso, ma mentre ancora sostava incerto, si accorse che il conducente del calesse. Dalla strada sbirciava l'insolita scena e con un'occhiata alla saletta scorse il nostro gruppetto riunito nell'angolo del bar. La presenza di tanti testimoni lo decise a una fuga immediata. Si riprese, passò la mano sul panciotto e scattò come un serpente puntando alla porta. Ma le sue tribolazioni non erano finite del tutto, perché mentre lo superava, Fez gli afferrò il braccio e udimmo un sussurro penosamente chiaro. Lo avete visto di nuovo? Il ricco, grande dottore di Londra mandò un grido acuto e strangolato, sfrecciò oltre l'interlocutore nello spazio libero e con le mani levate sopra il capo attraversò la soglia come un ladro colto sul fatto. Prima che qualcuno di noi riuscisse a muoversi, il calesse si dirigeva traballando alla stazione. La scena era stata come un sogno, un sogno però che aveva lasciato prove e tracce del suo passaggio. L'inserviente trovò sulla soglia il giorno successivo i begli occhiali d'oro in frantumi e quella sera stessa noi tutti stavamo col fiato sospeso presso la vetrina del bar e Fez era al nostro fianco, sobrio, pallido, con l'aria risoluta. Che Dio ci protegga, signor Fez, esclamò l'oste tornando per primo in possesso dei suoi sensi abituali. Che storia è mai questa? Sono cose ben strane quelle che avete detto. Fez ci guardò, uno dopo l'altro, in faccia. Cercate di tenere a posto la lingua, disse. Macferlaine è un uomo che è meglio non disturbare. Quelli che l'hanno fatto se ne sono penditi, ahimè, troppo tardi. Quindi senza nemmeno finire il terzo bicchiere e tantomeno aspettare gli altri due, ci salutò e si allontanò sotto il fanale dell'albergo, nell'oscurità della notte. Noi tre tornammo ai nostri posti, nella saletta, con un bel fuoco ardente e quattro luminose candele. Poi, mentre parlavamo dell'accaduto, il primo gelo della sorpresa si trasformò nel calore della curiosità. Restammo nella saletta fino a tardi. Fu l'ultima riunione che ricordo al vecchio George. Ciascuno di noi, prima che ci separassimo, aveva una teoria che doveva provare. E nessuno di noi aveva al mondo faccenda più importante che ritrovare il passato del nostro infelice compagno, scoprendo il segreto che egli divideva con il grande dottore di Londra. Non è cosa di cui vantarsi troppo, ma credo fossi il più abile di tutti tra gli amici del George a tirar fuori una storia. E forse non c'è più nessuno vivo che possa narrarvi gli illeciti e innaturali eventi che seguono. Durante la sua giovinezza, Fetz studiò medicina all'Università di Edimburgo. Aveva un certo talento nel saper afferrare rapidamente ciò che udiva e nel venderlo come proprio. Studiava poco a casa, ma davanti ai suoi maestri era cortese, attento e intelligente. Venne presto considerato un giovanotto che ascoltava attentamente e ricordava bene. Inoltre, per quanto strano mi fosse sembrato quando lo udì, in quei tempi era di bello aspetto e anche per questo piaceva. C'era a quell'epoca un certo docente esterno di anatomia che designerò qui con la lettera K. Il suo nome divenne in seguito fin troppo noto. L'uomo che lo portava si aggirava furtivo sotto mentite spoglie per le vie di Edimburgo, mentre la folla che applaudiva all'esecuzione di Burke chiedeva a voce alta il sangue del suo mandante. Ma il signor K era allora al vertice della fama e godeva di una popolarità dovuta in parte al suo talento e alla sua bravura e in parte all'incapacità del suo rivale, il professore ordinario dell'università. Gli studenti almeno avrebbero giurato il suo nome e Fez credette, come credettero gli altri, di aver gettato le basi del suo successo quando quell'uomo astronomicamente famoso gli concesse il suo favore. Il signor K era un bon vivant, oltre che un insegnante compito. Amava l'inganno accorto non meno di un'attenta preparazione. In entrambe le cose Fez eccelleva e si meritò la sua attenzione e al secondo anno di frequenza teneva già quasi regolarmente il posto del secondo supplente o sottassistente nella sua classe. In tale veste il peso della sala di insegnamento e dell'aula di anatomia poggiò soprattutto sulle sue spalle. Rispondeva della pulizia dei locali e della condotta degli altri studenti e faceva parte del suo dovere fornire, ricevere e dividere i vari corpi. In ragione di quest'ultimo compito, a quel tempo molto delicato, il signor K lo alloggiò nello stesso vicolo e infine nello stesso edificio dei locali di dissezione. E lì, dopo una notte di turbolenti piaceri, la mano ancora tremante, la vista annebbiata e confusa, nelle ore scure che precedono le albe invernali lo svegliavano i trafficoni sporchi e disperati che rifornivano il tavolo. Egli apriva la porta a quegli uomini malfamati di tutto il paese, li alleggeriva del tragico peso, pagava il loro prezzo sordido e restava solo quando essi se ne erano andati, con gli avanzi ostili dell'umanità. Si allontanava dalla scena per rubare ancora una o due ore di sonno che riparassero gli abusi della notte e lo preparassero all'attività del giorno. Sarebbero stati pochi i giovanotti insensibili alle impressioni di una vita passata tra le insegne della mortalità. Aveva la mente chiusa a ogni considerazione generale. Era incapace di provare interesse per i destini e le disgrazie di un altro, schiavo dei propri desideri e delle proprie basse ambizioni. Freddo, leggero, egoista all'estremo, possedeva quel minimo di prudenza, impropriamente chiamata moralità, che impedisce a un uomo di essere visto ubriaco o colto a rubare. Ambiva inoltre alla considerazione dei suoi maestri e dei suoi compagni e non aveva alcun desiderio di fallire in maniera evidente negli altri aspetti della vita. Si faceva quindi in merito di ottenere la distinzione negli studi, mentre ogni giorno rendeva un attento servizio al suo principale, il signor K. Per ogni giorno di lavoro si ripagava con una notte di gozzoviglie e quando aveva riequilibrato ai conti, quell'organo che chiamava la sua coscienza si dichiarava soddisfatto. Il rifornimento dei corpi era un fastidio continuo per lui come per il suo principale. La materia prima per gli anatomisti continuava in quella classe numerosa e attiva a esaurirsi e l'attività che si rendeva perso necessaria non era solo sgradevole in sé ma minacciava anche di serie conseguenze tutti coloro che vi avevano a che fare. La politica del signor K era di non fare domande nelle trattative di affari. Loro portano il corpo e noi paghiamo il prezzo, soleva dire citando la letterazione quid pro quo e ancora alquanto cinicamente. Mai fare domande diceva ai suoi assistenti per amor di coscienza. Non si doveva sapere se i corpi erano quelli di assassinati. Se qualcuno avesse espresso l'idea in parole egli sarebbe indietreggiato con orrore ma la leggerezza dei suoi discorsi su un argomento così grave era di per sé un'offesa al buon gusto e una tentazione per coloro con cui trattava. Fetz per esempio era spesso incuriosito della singolare freschezza dei corpi. Era stato colpito dall'aspetto abominevole, da pendaglio da forca, dei ruffiani che lo visitavano prima dell'alba e facendo due più due per conto suo aveva forse attribuito un significato troppo immorale e troppo categorico agli incauti consigli del suo padrone. Gli parve in breve che il suo dovere avesse tre regole. Prendere ciò che gli veniva portato, pagarne il prezzo e allontanare l'occhio da ogni evidenza di reato. Una mattina di novembre questa politica del silenzio venne messa duramente alla prova. Era rimasto sveglio tutta la notte per un tormentoso mal di denti, camminando per la stanza come una bestia in gabbia o gettandosi infuriato sul letto. Era alla fine addormentato in quel modo profondo e agitato che segue spesso una notte di dolore. Quando lo svegliò il terzo o quarto furioso richiamo del segnale stabilito. La luna splendeva leggera, il freddo era crudele e c'erano vento e brina. La città non si era ancora svegliata, ma si percepiva quell'indefinibile agitazione che prelude al rumore e all'attività della giornata. quelle creature diaboliche erano venute più tardi del solito e sembravano particolarmente ansiose di andarsene. Rez, travolto dal sonno, li condusse al piano di sopra. Li ascoltò come in sogno, brontolare nel loro accento irlandese. Mentre svuotavano il sacco della merce, si appoggiò sonnecchiando alla parete e dovette scuotersi per cercare i soldi da dar loro. Intanto gli scapparono gli occhi sulla faccia del morto. Sobbalzò, avvicinandosi con la candela alzata. Di onnipotente, gridò, questa è Jane Galbright. Gli uomini non risposero e si avvicinarono alla porta. Ma la conosco, vi dico, continuò. Ieri era viva e vegeta. È impossibile che sia morta. È impossibile che abbiate potuto prendere già il suo corpo. Capo, vi sbagliate di sicuro, disse uno degli uomini. Ma l'altro guardò bene Fetz negli occhi e pretese il denaro immediatamente. Era impossibile non capire la minaccia o esagerare il pericolo. Fetz sentì il cuore mancargli. Balbettò qualche scusa, contò la somma e i suoi odiosi visitatori se ne andarono. Appena uscirono si affrettò a cercare una conferma dei suoi dubbi. Per una dozzina di segni indubitabili, identificò la ragazza che aveva scherzato con lui il giorno prima. Sul corpo di lei vide segni che potevano essere quelli di una violenza. O preso dal panico e cercò rifugio nella propria stanza, dove riflette a lungo sulla scoperta che aveva fatto. Considerò sobriamente il senso delle istruzioni del signor K e il pericolo che poteva derivargli dall'interferire in una questione così seria. Alla fine, nel dubbio più amaro, decise di aspettare il consiglio del suo immediato superiore, l'assistente di classe. Era costui un giovane dottore, Wolf McFarlane, molto popolare tra gli studenti più irrequieti, intelligente, dissoluto e privo del minimo scrupolo. Aveva viaggiato e studiato all'estero. I suoi modi erano piacevoli e un poco sfrontati. Era di casa, sui palcoscenici. Abile sul ghiaccio e sul campo da golf, coi pattini e con la mazza. Vestiva con simpatica audacia e per mettere il tocco finale alla sua gloria, possedeva un barroccino e un robusto cavallo da trotto. Con Fetz era abbastanza intimo e le rispettive condizioni richiedevano una certa comunanza di vita. Quando i corpi erano scarsi, la coppia si avventurava nella campagna, sul baroccino di McFarlane, visitando e sconsacrando qualche cimitero solitario per tornare prima dell'alba col suo bottino alla porta del locale di dissezione. Quella particolare mattina McFarlane arrivò un po' prima del solito. Fetz lo udì e gli andò incontro sulle scale. Gli raccontò la storia e gli mostrò la causa della sua preoccupazione. McFarlane esaminò i segni sul corpo della ragazza. Sì, disse Annuendo. Puzza un po'. Allora, cosa dovrei fare? domandò Fetz. Fare, ripete l'altro. Volete fare qualcosa? Come si dice? Meno si fa, meno si sbaglia. Potrebbe riconoscerla anche qualcun altro, obiettò Fetz. È famosa quasi come il castello di Edimburgo. Speriamo che nessuno la riconosca, disse McFarlane. E se qualcuno lo facesse, beh, non sarete voi. Vedete, finirebbe così. Il fatto è che la faccenda è andata troppo avanti. Se sollevate polvere, K si troverà in un guaio infernale e anche voi avrete le vostre gatte da pelare. Anch'io, per essere sinceri, mi piacerebbe sapere che faccia faremmo. O che diavolo potremmo dire a nostra discolpa su un banco di testimoni cristiano. Per me, sapete, c'è una sola cosa sicura. Tutti i nostri corpi sono di persone assassinate. McFarlane, grido Fetz. Su via, disse l'altro sprezzante. Come se voi non lo aveste sospettato? Sospettare è una cosa? E avere le prove è un'altra? Sì, lo so. E mi dispiace quanto a voi che sia successo, continuò picchiettando il corpo con il suo bastone da passeggio. La cosa migliore da farsi, secondo me, è non riconoscerla. E aggiunse freddamente. Io farò così. Se volete riconoscerla voi, accomodatevi. Non voglio imporre niente a nessuno. Ritengo tuttavia che un uomo di mondo si comporterebbe come me, se posso aggiungere. Credo sia quello che K si aspetterebbe da noi. La domanda è, perché ha scelto noi come assistenti? E io rispondo, perché non cercava vecchierelle tremebonde. Tra tutti gli argomenti, questo era il più adatto a influenzare le idee di un giovanotto come Fetz. Acconsentì ad imitare McFarlane. Il corpo della sfortunata ragazza venne debitamente sezionato e nessuno commentò o parve riconoscerla. Un pomeriggio, terminato il lavoro quotidiano, Fetz entrò in una ben nota taverna e trovò McFarlane seduto con un forestiero. Si trattava di un ometto molto pallido e dai capelli neri, con occhi come carboni. Il taglio del suo viso prometteva intelligenza e raffinatezza, che non si realizzavano minimamente nelle maniere, perché si dimostrò, ad una più approfondita conoscenza, grezzo, volgare e stupido. Esercitava tuttavia un controllo notevole su McFarlane, dava ordini come il gran Pasha, si arrabbiava alla minima discussione o ritardo e faceva commenti villani sul servilismo con cui veniva obbedito. Questa persona estremamente detestabile si incapricciò subito di Fetz, lo sedusse con i liquori, lo onorò di insolite confidenze sulla sua passata carriera. Se fosse stata vera la decima parte di ciò che aveva confessato, quel tale sarebbe stato il più spregevole dei cialtroni e l'attenzione di un uomo così navigato aumentò la vanità del giovanotto. Sono io stesso un pessimo soggetto, rimarcò il forestiero, ma McFarlane ci sa davvero fare. Toddy McFarlane lo chiamo io. Toddy, ordinate un altro bicchiere per il vostro amico. Toddy mi odia, disse ancora. Oh sì, Toddy, mi odiate. Non chiamatemi con quel nome dannato, grugni McFarlane. Senti, senti, non avete mai visto i ragazzini giocare con i coltelli? Ebbene, a lui piacerebbe farlo sul mio corpo, notò il forestiero. Noi medici conosciamo un modo migliore di quello, disse Fetz. Quando detestiamo un nostro amico morto, lo sezioniamo. McFarlane alzò bruscamente il capo, come se lo scherzo non gli fosse piaciuto. Il pomeriggio passò. Gray, questo era il nome del forestiero, invitò Fetz a unirsi a loro per la cena, ordinando un festino così sontuoso che mise in agitazione la taverna, e quando ebbero finito, ordinò McFarlane di pagare il conto. Si separarono che era tardi. Quel tizio, Gray, era fuori di sé per l'ubilacchezza, e McFarlane, sobrio per la rabbia, masticava bile per i quattrini che era stato costretto a spendere e per le offese inghiottite. Fetz, con vari liquori che gli cantavano in testa, tornò a casa col passo incerto e la mente del tutto annebbiata. Il giorno seguente McFarlane fu assente dalla classe, e Fetz sorrise tra sé, immaginandoselo ancora in giro per taverne a far da scorta all'insopportabile Gray. Non appena suonata l'ora di fine lezione, passò di luogo in luogo alla ricerca dei compagni della notte precedente. Tuttavia non li trovò da nessuna parte, così se ne tornò presto a casa, andò subito a letto e dormì il sonno dei giusti. Alle quattro del mattino lo svegliò il segnale ben noto. Scesa alla porta, ed enorme fu il suo stupore per trovare McFarlane col suo calesse, e nel calesse uno di quegli orridi lunghi pacchi che gli erano ben familiari. Che cosa? gridò. Siete stato fuori da solo? Come ci siete riusciti? McFarlane lo fece tacere rudemente, invitandolo a occuparsi degli affari suoi. Quando ebbero portato di sopra il corpo e lo ebbero steso sul tavolo, McFarlane fece come se se ne volesse andare, ma si fermò e sembrò esitare. Poi, è meglio che gli guardiate la faccia, disse in tono forzato. Sì, è meglio, ripeté, mentre Fez lo fissava meravigliato. Ma dove e quando lo avete trovato? gridò l'altro. Guardategli la faccia, fu la sola risposta. Fez fu scosso. Lo assalirono strani dubbi. Il suo guardo passava dal giovane medico al corpo e viceversa. Alla fine, trasalendo, fece come gli era stato ordinato. Si era quasi aspettato di vedere ciò che vide, eppure la sorpresa fu crudele. Vedere, fissato nella rigidità della morte e nudo sul ruvido strato di sacco, l'uomo che aveva lasciato sazio di cibo e di vizio alla soglia della taverna, risvegliò anche nello spensierato Fez alcuni dei terrori della coscienza. Era un crass ubi che riecheggiava nella sua anima. Il fatto che due persone che aveva conosciuto fossero finite a giacere su quei geli di tavoli. Ma questi non erano che pensieri secondari. La prima preoccupazione era per Wolf. Imperparato a una provocazione così grave, non sapeva come guardare in faccia il suo compagno, non osava incontrarne lo suardo e non gli rispondevano né le parole né la voce. Fu lo stesso MacFarlane a fare il primo passo. Si avvicinò silenziosamente all'altro e gli pose piano ma con fermezza una mano sulla spalla. Richardson, disse, potrà avere la testa. Ebbene, Richardson era uno studente che aspettava da tempo di sezionare quella parte del corpo umano. Non ci fu risposta e l'assassino riprese. Parlando d'affari, mi dovete pagare. I vostri conti, vedete, devono bilanciare. Fez ritrovò la voce. Uno spettro della sua. Pagarvi, gridò. Pagarvi per che cosa? Su via, certo che dovete. Per amor di regolarità, dovete, ribatté l'altro. Non oso darvelo per nulla. Voi non osereste prenderlo per nulla. Ci comprometterebbe entrambi. È un caso come quello di Jungle Bright. Più le cose sono sbagliate, più dobbiamo comportarci come se fossero giuste. Dove tiene i quattrini il vecchio K? Là, rispose Fez Rauco, indicando una credenza nell'angolo. Datemi la chiave allora, disse calmo l'altro allungando la mano. Ci fu un istante d'esitazione e il dado fu tratto. Quando si sentì la chiave tra le dita, McFarlane non poteva evitare una contrazione nervosa, segno infinitesimale di un immenso sollievo. Aprì la credenza, ne tolse penna in chiostro e un registro che si trovava in uno scomparto. Poi tolse dai fondi che si trovavano in un cassetto la somma adatta all'occasione. Ora attenzione, disse. È stato effettuato un pagamento. Prima prova della vostra buona fede. Primo passo verso la vostra sicurezza. Non dovete che confermarlo con un secondo. Registrate il pagamento sul vostro libro e voi, da parte vostra, potrete sfidare il diavolo. I pochi secondi che seguirono furono un tormento angoscioso per la mente di Fez, ma a equilibrare i suoi terrori trionfò l'immediato. Qualunque difficoltà futura gli sembra quasi benvenuta se avesse potuto evitare in quel momento di litigare con McFerlane. Depose la candela che aveva retto per tutto il tempo e registrò con mano ferma la data, la natura e l'ammontare della transazione. E ora, disse McFerlane, è più che giusto che intaschiate la vostra parte di guadagno. Io ho già avuto la mia parte. A ogni modo, quando un uomo di mondo ha un colpo di fortuna, ha qualche scellino extra in tasca. Mi vergogno di parlarne, ma c'è una norma di condotta in questi casi. Niente festeggiamenti, niente acquisti di costosi libri di studio, niente saldo di vecchi debiti. Prendete a prestito, non prestate. McFerlane cominciò a Fez ancora un poco rauco. Mi sono messo un cappio intorno al collo per farvi un piacere. Per farmi un piacere, gridò Wolf, ma guarda, non avete fatto, per quanto mi riesce di vedere, che ciò che dovevate fare per difendervi. Mettete che io finisca nei pasticci. Cosa credete che capiterebbe a voi? Questa seconda cosuccia deriva chiaramente dalla prima. Il signor Gray è il proseguimento della signorina Galbraith. Non potete cominciare e poi smettere. Se cominciate, dovete andare avanti. La verità è questa. Non c'è pace per il dannato. Un orribile senso di osculità e il tradimento del destino piombarono sull'animo dell'infelice studente. Dio mio, gridò, ma cosa ho fatto? E quando ho cominciato? A diventare assistente di classe, in nome della ragione? Che cosa c'è di sbagliato? C'era Service che voleva l'incarico e Service avrebbe potuto averlo e lui si sarebbe trovato dove ora mi trovo io. Mio caro, disse McFerlane, siete proprio un ragazzino. Che male ve ne è venuto? Che male può venirvene se tenete la lingua a posto? Insomma, amico, lo sapete cos'è la vita? Siamo divisi in due squadre, i leoni e gli agnelli. Se siete un agnello finirete su questi tavoli, come Gray e Jengelbright. Se siete un leone vivrete e condurrete un cavallo come me, come K, come tutti coloro che hanno spirito coraggio. Dapprima si ha paura, ma guardate K, mio caro amico. Voi siete svelto, avete fegato. Mi piacete e piacete anche a K. Siete nato per guidare la caccia e vi dico sul mio onore e per la mia esperienza di vita che fra tre giorni riderete di questi spaventapasseri come un ragazzetto a una farsa. Detto ciò, McFerlane ripartì, guidando il suo calesse per il vicolo, per andare a dormire prima che si facesse giorno. Fetz venne quindi lasciato solo con i suoi rimpianti. Vide il rischio avvilente in cui era finito. Vide con sgomento indicibile che la sua debolezza non aveva limiti e che di concessione in concessione, da arbitro del destino di McFerlane, era finito al suo complice prezzolato senza speranza. Avrebbe dato il mondo per essere stato un po' più coraggioso e non gli venne in mente che avrebbe ancora potuto esserlo. Il segreto di Jane Galbright e la maledetta annotazione sul registro gli chiusero la bocca. Le ore passarono. Gli studenti cominciarono ad arrivare. Le membre del disgraziato Grey vennero distribuite all'uno e all'altro e ricevute senza commenti. Richardson fu felice per avere tra le mani una testa e prima che suonasse l'ora di fine lezione Fetz tremava esultante vedendo quanto fossero andati avanti verso la salvezza. Per due giorni continuò a guardare con gioia sempre maggiore l'odioso processo di occultamento. Il terzo giorno ricomparve McFerlane. Era stato malato disse ma si rifece del tempo perduto dirigendo con energia gli studenti. A Richardson in particolare dedicò un'assistenza e consigli inestimabili e lo studente incoraggiato dal consenso del supplente bruciava di speranze ambiziose vedendosi già in pugno la medaglia. Prima che fosse terminata la settimana si era avverata la profezia di McFerlane. Fetz aveva superato i suoi terrori e dimenticato la sua bassezza. Cominciò a lusingarsi per il suo coraggio e si era così ben rigirato la storia in mente che poteva guardare con orgoglio malsano gli eventi. Vide poco il suo complice. Si incontravano ovviamente per le faccende della classe e ricevevano insieme gli ordini da K. A volte si scambiavano qualche parola in privato e McFerlane fu particolarmente gentile e gioviale dal principio alla fine. Ma era chiaro che evitava ogni riferimento al segreto comune e anche quando Fetz gli sussurrò di aver scelto la parte dei leoni e abbandonato gli agnelli indicò soltanto con un sorriso di andar cauto. Alla fine arrivò un'occasione che unì la coppia ancor di più. Il signor K era di nuovo a corto di cadaveri. Gli studenti lavoravano con passione ed era un punto d'onore che il maestro fosse sempre ben rifornito. Vennero allo stesso tempo informati di una enumazione al cimitero campagnolo di Glincurs. Il tempo non è quasi mutato il luogo in questione. Era situato, allora come adesso, a un incrocio lontano da ogni abitazione e sepolto profondamente nel fogliame di sei cedri. I belati delle pecore sulle colline circostanti, i ruscelli che corrono dalle due parti, uno che canta forte tra i sassi e l'altro che sgocciola furtivo da pozza a pozza, lo stormire del vento tra le fronde fitte di un vecchio castagno e una volta ogni sette giorni la voce della campanella e gli antichi canti del maestro del coro erano i soli suoni che turbavano il silenzio intorno alla chiesetta campestre. L'uomo della ressurrezione, per usare un soprannome di quel tempo, non si fermava davanti a nessuna delle barriere poste dalla pietà comune. Faceva parte del suo commercio disprezzare e dissacrare le lapidi e gli ornamenti delle vecchie tombe, i sentieri tracciati dai piedi dai fedeli e dai piangenti, le offerte e le iscrizioni degli affetti perduti. Nel rustico circondario, dove l'amore è più tenace del solito e dove legami di sangue e di comunanza uniscono tutta la società di una parrocchia, il ladro di cadaveri, lungi dall'essere respinto dal rispetto naturale, era attratto dalla facilità e dalla sicurezza del compito. Ai corpi che erano stati deposti nella terra, in gioiosa attesa di un ben diverso risveglio, giungeva quella ressurrezione frettolosa, a lume di lanterna e piena di angosce, della vanga e del piccone. La barra veniva forzata, strappato il sudario e i melanconici resti avvolti in una tela di sacco. Dopo essere stati sballottati, per ore lungo viuzze oscure, venivano infine esposti alla massima offesa, davanti a una classe di ragazzotti a bocca aperta. Come due avvoltoi che piombano sull'agnello morente, Fetz e Macferlane si avventavano su di una tomba di quel verde e tranquillo luogo di eterno riposo. La moglie di un fattore, una donna che era vissuta per 60 anni, senza essere conosciuta altro che per il suo buon burro e per la temerata conversazione, stava per essere sradicata dalla sua tomba a mezzanotte e portata morta e nuda in quella città lontana che aveva sempre onorato col suo miglior vestito. Il posto accanto alla famiglia sarebbe rimasto vuoto fino al giorno del giudizio. Le sue membra innocenti e quasi venerande sarebbero state esposte a quell'ultima curiosità dell'anatomista. Un tardo pomeriggio la coppia si mise per strada, ben avvolta nei mantelli e in compagnia di una bottiglia formidabile. Diluviava, una pioggia gelida, fitta e sferzante. Di tanto in tanto c'era un soffio di vento, ma quella coltre d'acqua non cessava mai. Nonostante la bottiglia, il loro fu un viaggio triste e silenzioso fino a Pennyquick, dove avrebbero passato la serata. Si fermarono una volta a nascondere gli attrezzi in un fitto cespuglio, non lontano dal Camposanto, e poi ancora al Fisher Trist per riscaldarsi davanti al fuoco della cucina e per variare i sorsi di whisky con un bicchiere di birra. Raggiunta la fine del viaggio, alloggiato il calesse e riparato e ristorato il cavallo, i due giovani dottori sedettero in una saletta privata per godersi la miglior cena e il miglior vino che la casa potesse offrire. Le luci, il fuoco, il martellare della pioggia contro la finestra, il freddo e incongruo lavoro che li aspettava aggiunsero sapore al godimento del pasto. La loro cordialità aumentava ad ogni bicchiere e dopo non molto McFerland porse al suo compagno un mucchietto d'oro. Con i miei complimenti, disse, tra amici, questi piccoli dannati accomodamenti dovrebbero correre senza problemi. Fezzin tescò il denaro e applaudì fragorosamente all'idea. Siete un filosofo, gridò, e io un asino finché non ho incontrato voi. Voi e K farete di me un vero uomo. Ma sicuro, applaudì McFerland, un uomo. Ve lo dico, ci voleva proprio un uomo per appoggiarmi l'altra mattina. Ci sono certi codardi, quarantenni, grandi, grossi e sbraitanti, che si sarebbero sentiti male a vedere la dannata corsa. Ma voi no. Voi avete tenuto la testa a posto. Vi ho osservato. Ebbene, perché no? Si vantò allora Fezz. Non erano affari miei. Non c'era che da ricavare fastidi da una parte e dall'altra ero certo di contare sulla vostra gratitudine. Non vedete. E si batte sulla tasca finché non risuonarono i pezzi d'oro. A quelle parole sgradevoli McFerland provò una punta di allarme. Avrebbe potuto rimpiangere di aver istruito con tanto successo il suo giovane compagno, ma non ebbe il tempo di interferire, perché l'altro continuò rumorosamente la sua tirata vanagloriosa. La cosa importante è non aver paura. Ora, tra voi e me, io non voglio essere impiccato, è ovvio, ma per tutti quei luoghi comuni, McFerland, io non provo che disprezzo. Inferno, Dio, diavolo, giusto, sbagliato, peccato, crimine e tutta la vecchia galleria di anticalie. Spaventerebbero un ragazzino, ma gli uomini di mondo come voi e me li disprezzano. Un brindisi alla memoria di Gray. Era ormai abbastanza tardi. Il calesse, secondo l'ordine, era stato condotto davanti alla porta, entrambe le lampade accese e brillanti, e così i due giovanotti pagarono il conto e ripresero la strada. Avevano detto di essere diretti a Pibble e guardarono in tale direzione, finché non si furono lasciati alle spalle le ultime case della città. Poi spensero le lampade, tornarono sui loro passi e seguirono una strada secondaria verso Glencourse. Non c'era altro suono che quello del loro passeggio, e lo stridere incessante dei rovesci di pioggia. L'oscurità era assoluta. Qua e là un cancello bianco o una pietra bianca e un muro liquidavano per un breve tratto nella notte, ma per la maggior parte del tempo viaggiarono a passo d'uomo, a rischio di perdersi, trovando la via nell'oscurità risonante verso la loro solenne e isolata destinazione. Nei boschi profondi che percorrono il circondario del Campo Santo fu necessario accendere con un fiammifero una delle lanterne del calesse. Quindi, sotto gli alberi sgocciolanti e circondati da ombre mobili e gigantesche, raggiunsero la scena del loro ingrato lavoro. Erano entrambi esperti di tali cose, e con le vanghe se la cavavano bene. Non erano all'opera nemmeno da una ventina di minuti che furono premiati dal suono ottuso dello sfregamento contro il coperchio della bara. Nello stesso istante MacFarlane fece volare con non curanza sopra la testa una pietra con la quale si era ferito a una mano. La tomba, dentro cui erano sprofondate fin quasi alle spalle, si trovava presso il margine del pianoro del cimitero, e la lampada del calesse era appoggiata nella posizione migliore per illuminare la faccenda, contro un albero e al limite di un argine ripido che scendeva al fiume. Il caso aveva avuto buona mira con quella pietra, si udì lo schianto del vetro rotto, e si trovarono avvolti nell'oscurità. Suoni ottusi e tintinnanti annunciavano i rimbalzi della lanterna giù per l'argine e i suoi urti occasionali contro gli alberi. Una o due pietre, smosse nella discesa, le rotolarono dietro nella profondità della valletta. Poi il silenzio e la notte ripresero il loro dominio. Avrebbero potuto tendere l'orecchio al massimo e non avrebbero udito altro che la pioggia portata dal vento, che cadeva costante sopra miglia di aperta campagna. Erano così prossimi al completamento dell'aborrito compito che giudicarono più saggio portarlo a termine nell'oscurità. La bara venne esumata e forzata, il corpo infilato nel sacco fradicio che i due trasportarono insieme fino al calesse. Uno montò per tenerlo a posto, mentre l'altro, afferrato al cavallo per il morso, avanzò a tentoni lungo muri e cespugli fino a raggiungere la strada più ampia presso il Fischer Trist. Trovarono qui una luminosità debole e diffusa, che si salutarono come giorno nascente e che li guidò verso la città, dove si diressero allegramente spingendo il cavallo a buon passo. Durante le operazioni si erano entrambi infradiciati fino al midollo e mentre il calesse sobbalzava fra i solchi profondi, la cosa che stava ritta tra loro cadeva ora addosso all'uno ora addosso all'altro. A ogni rinnovarsi dell'orrido contatto, ciascuno lo respingeva istintivamente in gran fretta e tutta la situazione, per quanto naturale fosse, cominciò a urtare i nervi dei due compagni. McFerland disse qualche disgraziata battuta sulla moglie del fattore, che risuonò alquanto vuota sulle sue labbra. Poi cadde il silenzio e il loro innaturale fardello continuava a sbandare da parte a parte. Ora la testa appoggiava come fiduciosa sulle loro spalle, ora il tessuto fradicio del sacco sbatteva ghiacciato sulla loro faccia. Un freddo strisciante cominciò a impossessarsi dell'anima di Fetz, sbirciò l'involto e gli parve un po' più grosso di prima. Per tutta la campagna, da ogni dove, i cani delle fattorie accompagnavano il loro passaggio con ululati tragici e nella mente di Fetz crebbe e si ingrandì il pensiero che si fosse compiuto qualche innaturale miracolo, che qualche mutazione innominabile fosse avvenuta in quel corpo morto e che per timore del loro carico maledetto ululassero i cani. Per l'amor di Dio, disse facendo un grosso sforzo per riuscire a parlare, per l'amor di Dio, accendiamo una luce. Pareva che McFerley improvasse i suoi stessi sentimenti perché, pur senza parlare, fermò il cavallo, passò le redini al compagno, discese e procedette per accendere la lampada rimasta. Non avevano nemmeno superato l'incrocio però che inclinì. La pioggia continuava a cadere come un nuovo diluvo universale e non era cosa da poco fare un po' di luce in quel mondo di umidità e di buio. Quando infine la fiammella azzurra e tremolante si trasferì al lucignolo e cominciò a espandersi, a diffondere un ampio cerchio di luce vaporosa intorno al calesse, fu possibile per i due giovanotti vedersi l'un l'altro e vedere anche la cosa che era con loro. La pioggia aveva modellato il ruvido tessuto sulle forme del corpo sottostante. Il capo si distingueva dal tronco, le spalle erano disegnate chiaramente, qualcosa di spettrale eppure umano. Tratteneva il loro sguardo fisso sul loro compagno di viaggio. Per qualche tempo McFerley rimase immobile, tenendo alzata la lanterna. Una paura senza nome si avvolgeva intorno al corpo di Fez come un sudario bagnato e gli tendeva la pelle bianca del viso. Un terrore senza significato, l'orrore di ciò che non poteva essere, gli saliva al cervello. Ancora un momento avrebbe parlato, ma il suo compagno lo precedette. «Quella non è una donna», disse McFerley con voce soffocata. «Era una donna quando l'abbiamo insaccata», sussurrò Fez. «Tenete la lampada», disse l'altro. «Voglio vedere la faccia». Mentre Fez reggeva la lampada, il compagno sciolse i legacci del sacco e abbassò i lembi intorno alla testa. La luce cadde molto chiara sui tratti scuri e ben modellati e sulle guance ben rase di un viso fin troppo noto, ospite spesso dei sogni di entrambi quei giovanotti. Un grido selvaggio risuonò nella notte. Ognuno saltò dal proprio lato della strada. La lampada cadde. Si ruppe, si spense e il cavallo, spaventato dall'insolito tramestio, scartò e si diresse al galoppo verso Edimburgo, portando con sé, solo occupante del calesse, il corpo, da lungo tempo morto e sezionato di Gray.